Le previsioni per giovedì 8 agosto 2024 di Globus Television. Pressione stabile sulla regione. Giornata all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Soltanto qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Temperature massime in aumento fino a 37 gradi, minime superiori ai 20 gradi. Mari, Marionio da quasi calmo a poco mosso, Martirreno quasi calmo, stretto di Sicilia quasi calmo. Grazie a tutti.